Oh sciaboletta, Grucco, dove siamo? Mi ciro la testa! Tranquillo, segui a me! Devi uscire fuori dal tempio! Ok, va bene, ma dove ci troviamo, Grucco? Mi hai fatto vedere in questo posto stra-mega figo, tra l'altro! Hai visto? Ah, dai, vi fa vedere un'altra mia invenzione! Un'altra tua invenzione? Oh mio Dio! Una nuova ruota della fortuna! Sì, questa è veramente fighissima! Incredibile! Quindi, quello che praticamente appena clicco il pulsante ruota, è, dovrò scegliere l'arma! Esatto, e combatteremo tra di noi, io avrò già le mie spade! Ok, allora speriamo di beccare una spada degna di combattere te, Grucco! Ovvio, vai, prova, prova! Ok, allora, starto, va bene? Vai, prova, vai! 3, 2, 1, e... via! Ok, ora funziona! Cosa esce? Vediamo, vediamo cosa esce! La spada... la spada di Polipo! Ma no, che spada è? Che spada è? Oddio, no, voglio andarlo assolutamente a vedere! Vanno a prendere, ti aspetto nel ring! Che colore è? È il colore azzurro, quello lì in fondo! Oh mio Dio! Sono strano e curioso di che spada potrebbe essere! Vediamo! Sword of the Zephyr! Che significa? Che spada strana! Guardate, sembra... Non lo so, tipo la testa di un Polipo! Di qualcosa, mamma mia! Però sembra allo stesso tempo anche una freccia! Ok! Grucco, sono pronto! Sì! Sei pronto? Voglio vedere cosa fa questa spada! Questa è la mia spada! Ok, vediamo cosa... Cosa... Oh mio Dio! Oh! Oh, figo! Mi permette di volare questa spada! Guardami, Grucco! Non ci arriva a prenderti! Oddio, posso fare un bel critical! Tredo uno e... Vai! Non mi prendi! Non mi prendi! E... Non è giusto, fermo! Dai, dai, dai! Vieni qua! No, 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 no! Guarda, non becco neanche il laser! La mia spada carota è la più! Puoi entra più! Ehi, invece no! Avevi una spada carota! Cosa? Sì! Oh mio Dio! Fammela vedere! Guarda, Grucco, prova tu ad utilizzare questa! È incredibile! Cosa fa la spada carota? Uh, che figo! Vedi che riesci a volare! È bellissimo! È stupendo questa cosa! No! Eh, ma di più! Aia! Aia! Eh! 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 No, no, no! Sì! Era troppo forte la spada che ho scelto, mamma mia! Sì, infatti! Aspetta, ma la spada carota... La spada carota già è... È praticamente finita! Beh, allora busciamola! Vabbè, una carota! No! E vabbè, Grucco, non mi devo dimorare una carota! Ok, va bene! No! Vai col prossimo! Ok, vado! Ah, vabbè, comunque, 3, 2, 1, via! Eh, vediamo che cosa esce! Vediamo! Eh! Cosa? La spada... Cosa? La spada di pesce? Ma vorrei scherzare! Valla a prendere, vai! Eh, va bene! Ok, ok! La spada di pesce! Ma come fanno a esistere delle spade del genere? La spada di pesce! Guardate! Cos'è che fa questa spada? Uccide i pesci in maniera più veloce? Vabbè? Vabbè che attacco c'ha? Eh, 2.1 attack speed food level 17! Che significa food level 17? Vuol dire che posso mangiarmi questa spada! Ma stiamo scherzando! Mio Dio! È incredibile questa cosa! Ok! Trucco! Sono qua! Non mi piace il pesce, purtroppo! Però sono qua! Sono pronto a schiccarti! Ok, Trucco, sei pronto? Sì, io la spada di me non è tanto! Vai, vieni! 3, 2, 1... Eh, cavolo! Ma queste spade si possono mangiare! Ma non ci togono nulla, Trucco! Infatti, sono abbastanza deroso! Mamma mia! L'unico modo... Ma si è rotta la mia! E invece la mia è più potente! Non è giusto, dai! Non ci voglio credere! Sei saltato sopra il ring! Oh no! Aspetta! No, fermo! No, fermo! No, fermo! No! No! Oddio! No, mi sei rotta la spada di pesce, porca miseria! Anche a me! Scusami, Trucco! Oddio! No, aspetta! Ce l'ho di nuovo! Ce l'ho qua! Cosa? Sai cosa? Che queste spade possono forse... Tipo ripristinare la fame? Davvero? Prova a mangiarla! Metto la normal! È vero dovrei mettermi a correre un po'! Credo che... Però forse adesso che non ho più di niti non posso più mangiare! Vai, vai, vai! Oh, vediamo! Sì, posso lancerla! Guarda! Non ho fanno! Non ho fanno! Che spade strane! È vero, eh! Ok, ok, ok! Andiamo al prossimo! Andiamo al prossimo, Trucco! Mamma mia! Finora è davvero epica la cosa! Ok, vediamo! Ok, pronto, eh? 3, 2, 1... E... Via! Vediamo, 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 vediamo! Oh, esce! Il... Lascia due asce! Oh mio Dio! Oh, cavolo! Questa è bella grossa! Sì, è bella grossa! Spero vivamente di riuscirla a impugnare! Ok, dovrebbe essere qua! Wow! Attack damage 11, però! Però è lentissima da ricaricare, mamma mia! Perché è un'arma pesante! Hai capito, Trucco? Eh, ah! E vabbè, però mi farei presti tanto danno! Tu che cos'hai, invece? Eh? Io... Io ho la mia slime sword! Slime sword! Aspetta, che significa che appena mi colpisci vado in giro? Vediamo o prova! No, non accade niente! Aia! No, fermo! Sei fatto malissimo! Non toccarmi! Oddio! Oddio! Ma è una spada... Ma è una spada gigante! Cioè, non è proprio una spada! Mi sono rimasti due cuori e mezzo! Aspetta, quindi se tipo io faccio così ti uccido del tutto! No, ho due cuori! Due cuori! Sì! Maledetto! Vediamo, vediamo, vediamo! Ti do... Allora, facevo una cosa! Ora muoio e ti do un vantaggio, ok? Di due spadate, ok? Due spadate! Aspetta! Ma io pure, aspetta! Ok, vediamo, vediamo se riesco a batterti con il vantaggio di due spadate che mi dai! 3, 2, 1, vai! No! No! Aspetta! No! Non è! È possibile! Invenzione! È incredibile! Questa spada fa schifo, butta! Butta! No! Vai! Ok! Ah, è rimbalzata, ecco perché non la buttava! Ok, questa me la lascio nell'inventario perché è davvero una signora spada! Questa, mamma mia! Sì, certo! Poi te la ruba e la butto pure quella! Ehi! Non ti permettono di fare queste cose! Ok! E vai, che cosa che voglio! Andiamo avanti! Vediamo un attimo cosa esce adesso tra la ruota della fortuna! Tra l'altro ragazzi, qual è il vostro colore preferito? Perché probabilmente in questa ruota sicuramente c'è il vostro colore preferito! Beh, anche se è tipo dite bianco o scuro perché la ruota è fatta dal bianco e anche da scuro che sta nel bordo! Quindi, c'è, ci sono tutti i colori effettivamente qua! Però il mio assolutamente è l'ascia! E non solo è l'azzurro questo qua appunto, ma tra l'altro è stata la spada più potente che ho utilizzato finora! Quindi... Per adesso, esatto! Hai ragione perché nell'arancione, ovvero il tuo colore crucoccio, è una spada che potrebbe veramente essere molto figa! Eh sì! Va bene! Pronti eh? 3, 2, 1... E... Vediamo! Vediamo, 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 vediamo! Oh! Cosa uscirà? Quale spada uscirà? La katana? No! La spada laser! La spada laser? Oh cavolo! Nel verde! Ok, vado subito al prenderla! Oh mio Dio! Incredibile la spada laser! Vediamo! Wow! Miau, 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 miau! E credo che non fa il suono, però guardate, è praticamente una spada di luce! Incredibile, non ho mai visto una cosa del genere! Quindi, in teoria dovresti prendere fuoco! Non ho idea! Ok, che spada è quella che stai utilizzando? La spada d'ossidiana! La spada d'ossidiana? Oh mio Dio! Quindi mi toglierà un sacco di... Aspetta, fammi morire! Come? Eh sì, perché avevo veramente pochissima vita! Ma va! Ok, pronto? Sì! 3, 2, 1... E... Combatti! Eh! Eh, cosa ti tolgo? Cavolo! Aia! Fa male! Fa male! Ultimo colpo, ultimo colpo! 360, uno scoop! No! Ah! Oh mio Dio! Ma è bellissima questa spada! Oh! Trucco! Sì! Ma? No! Posso rompere i blocchi con la spada di laser! Ma si è eliminato il ring! Assassino! Aia! Ah no! Non vale! Non ero pronto! Aspetta, ma... Ma Trucco posso... Posso spaccare quasi tutti i blocchi! Trucco! Cosa? Guarda, posso spaccare praticamente quasi tutti i blocchi! Fermo, posso non rompere niente! Fermo! Aspetta, mancherà la... Non ha senso! Adesso però non ti troppa niente! No, purtroppo no! Però mi fa spaccare tutti i blocchi! Io non ho parole, ma guarda qui! No! Voglio provare a vedere... Quindi pure la nederita! Ora smettere! No, la nederita no, è troppo potente! Ma è veloce! Sì, è vero veloce! È vero veloce! Oh mio Dio! È assurda questa cosa, Trucco! Sì! Oh mio Dio! Ok, basta! Sto spaccando troppe cose! No, hai ragione, hai ragione! Ok! Va bene! Ok! Allora, questa me la tengo sempre! Perché potrebbe servire! Mamma mia! Assolutamente sì! È una spada leggendaria! Ok! Vediamo cosa uscirà adesso! Sei pronto, Trucco? Sì! 3, 2, 1... Via! Eh! Vediamo cosa esce! Vediamo cosa esce! Vediamo cosa esce! Vediamo cosa esce! Sì! Eh! È la spada! Che strana spada! Sembrava tipo una spada con il portale del Nether! Carina! Vediamo la prendere! Ok! In genere dovrebbe essere il viola! È il viola? Sì, è il viola! Sì! Sì! Ender Sword! La spada del Land! Incredibile! Oh mio Dio! Chissà che cos'è che fa! Ok! Vediamo! Secondo me è una spada normale solo che è troppo forte! Vediamo! Sei pronta? Oh mio Dio! Ma che spada non ha? È quella che ha in mano! Eh! Spada lunare! Spada lunare! La prendo sul serio! Ok! Pronto? Sì! 3! 2! 1! Aia! Oh! Ma dai! Ma sono qui! Ma mi è teletrasportato! Io c'ho io cazzo! Ti teletrasporta questa spada! No! E' possibile! Vieni qua! Ehi! Ma la vai a smettere! Ma mi ti teletrasporto sempre nella distanzona! Vieni qua! No! No! Vieni qua! Ma ti tolgo almeno cuori! Sì! Mi stai ammazzando! E muori! Hai rotto la scatola! Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? No! Vabbè! Manca poco! Manca poco! Manca poco! E ti ammazz... No! Dai, trucco! Non te la prendere! E la spasta! La vuoi spettere! Ok! Vieni qua! Ho rotto la scatola e basta! No! Vabbè, me la tengo comunque questa spada perché è piccata! Ok, va bene! Manca quando vuoi! Ok, 3 di 1 e... Via! Vai! Vediamo cosa esce adesso! E... Oddio! 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 Cacchino quel coso! E' uno yo-yo! E' uno yo-yo! Ma che gli vanno a prendere quelle filo! Ok, yo-yo conosci! Scusa! Yo-yo! What the fuck? Sì! Ok, vado subito a vedere! Oh mio Dio! Aspetta, che colore è? E' il fucsia! Ok! Oh! Ma... Ma che cosa serve? Scusa! Oddio! Guarda, trucco! E... No, cosa? Ah-ha! E' uno yo-yo! Ma che cacchietta! Ce l'ho detto! Guarda come gira! Aspetta, ma se lo buttino la lava? Ok, no! Affortunatamente non si rompe! Oddio! Ma più guarda dove va! Ma vai in altissimo! Ma infatti! No! Stavo bruciando! Oddio! Dai, vieni! Scusa, come funziona quest'arma? Non dimmi che effettivamente funziona! Boh! Che ne so io? Ai! Oh! Strucco! Tutto bene? Non voglio più combattere con te! No, aspetta! Come è successo questa cosa? Fai vedere che spada hai intanto! Questa! Oddio! Che spada hai? Aia! Cavolo, te! Queste armi del cavolo! La prossima volta le prendo io queste cavolo di armi! Star, star, star! Sì, star! Mannaggia te, trucco! Come ti permetti! Eh! 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 Ma posso prenderti anche da lontano! Ma non ha senso! Non lo vuoi smettere! Con un colpo mi fai fare! No! No, non mi prendi! No! Non ci vuoi prendere! Sei addioso! Ma mi prendi una! Basta! Mi sono staccato! Basta! Uffa! No, non mi prendi! No! No! No, ma no! Quindi, prego! Crucco, fai una cosa! Andiamo a metterteli in fondo! Andiamo a metterteli in fondo! E voglio vedere se riesco a prenderti dall'in fondo! No! Non ha senso questa cosa! Ok, pronto! Eh! No! Ah! Non mi prendi! Oh, mannaggia! Ah! Oh, caccia! L'ho qua davanti a me! E com'è che non muori? Perché c'è un limite, credo! Vediamo, aspetta! Rimani lì, rimani lì! Voglio vedere fin quanto... Oh, no! No! Ah! Ok! Tipo, ci sono... Non lo so! Saranno tipo 10-15 blocchi! Maledetto! Ah! Non si colpisce le... Oddio, avevo visto... Grucco, avevo visto che tipo si stava per rompere il pavimento! Prova col destro! Non lo so! Prova a fare qualcosa con questa spada! No, non fa nulla! Ok! Scusami, grunca scusa! Mi scusa! È troppo bello questo yo-yo, mamma mia! Guarda! Infatti, vai, continua! Vai! Prova a usarlo tu! Questo lo sai che adesso è mio per sempre, vero? Vieni qua! Ah! No! Maledetto! Fa nullone! No, 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 no! Oddio! 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 Cucu! Ah! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! No, mi sei banchato! No, ok, ripeto! Ah! No! Avvi la porta! Avvi la porta! No, no, esci tu, esci tu! No! Questo adesso! Rimani io! No! No! Ah! Prova a prendermi, prova a prendermi! No! Non ti ho visto! Aspetta, aspetta, voglio vedere che... Ah! Ah! Vediamo! Ah! No! Non vale! No! No! Non ti avvicinare! È troppo divertente! È fantastica, sì! Cucu! No! Non ti ho preso! Aspetta, ti ho teletrasportato e tu mi hai ucciso! Sì! Parole! Incredibile! Ok, sciapolette, va bene, va bene, va bene! Andiamo all'ultima arma, sei pronto? Perché veramente stiamo vedendo di tutti i colori, mamma mia! Sì, vai, vai, vai! Ok, questa me la salvo! Mi dai lo io io! Col cacchio! Che neanche questo pulsante! Ok, va bene, va bene, va bene, va bene! Aspetta, però manca anche la tua spada! Non ne manca una! Ne mancano! Due! Due, 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 due! Ma che tre? No! La katana, la spada rossa! È due, vedi! Ho sbagliato! È capitato! Ok, va bene! Tre, due, uno! Tre, due! Uno, via! Chi è? La spada tua, il trucco, l'arancione! Sì! Vai, vai! Oh mio Dio! Vado a vedere, vado a vedere! Vediamo cosa fa la spada arancione, specialmente che spada è! Earth Piercer, one of the fables plays that is known for constantly involved in the bullshit! It's signature, it's shining red edge! Oh my God! È l'occavino! Do you understand? This is the great sword! Oh my God! Guarda, guarda! Arrivo, arrivo, arrivo da te! Scusa, mi sono fatto prendere default mod! Infatti! Ah, è default mod! Quindi, fa danno e basta! Oh! Cos'è? È una banana quella che c'hai in mano! Vai la spada torta! No! Ti va cavo, chissà! Ti rivego! Oh, cavolo, è ritornato! Voglio vedere se magari... Ma se non si può, tipo, non lo so, mettere forte questa spada, tipo... Boh! Mio Dio, però è figo! Ok, forse avevo capito come far funzionare queste spade! Quando vai? Perché di nulla, no? Ok, quindi adesso cambio la modalità! Perché non riesco a muovermi a destra? Non riesco a muovermi a destra? Ah, però si attacca così! Ma? Ahia! Annaggia te! Ma questa spada è un fuck schifo! Ho questa spada in mano! È una spada storta, grucco! No, questa spada non riesco a muovermi a destra! Io... Forse ti conviene toglierla quella spada, perché evidentemente non puoi andare sulla destra con quella spada! Comunque questa... Non capisco, cioè, io ho modificato, tipo, questa spada qua! Brutal Trust Mod! Che significa Brutal Trust? Non ho la minima idea! Non succede niente! Questa con i mob funziona! Prova a spada... Somma una qualcosa! Vedi cosa riusciamo a fare con questa spada con i mob! Oh mio Dio! Magari il cavolo... Tipo non lo so, fa qualcosa? No? Non fa nulla! Ti sei? Vai! Ok, questo è il Brutal! E non fa nulla! Poi dovrei provare a vedere magari altre cose! Però... E nemmeno dietro! Boh, non lo so! Oh cavolo! Aspetta, vediamo cos'è cos'è adesso! Brutal Trust is War! Ok, vediamo adesso! Not enough energy to awaken! No, non ho energia! Mi serve energia! Strano! Come funziona questa roba? Non si sa come funzionano queste spade! Dice che c'è energia! Aspetta! Aspetta! Non vale! Sei creative! Devo spararti le cose! Aspetta! Ah, morto! A posto! Perfetto! È introdioso! Bene! Questa spada te la puoi tenere? Non mi piace! Andissime! Ok, va bene! Va bene! Va bene! Ok! 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 Adesso proviamo a vedere l'ultima spada! Siete pronti? Siamo pronti? Sì! Ok! Ok! Pronto! 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 3! 2! E via! Vediamo un attimo cosa esce adesso! La spada gialla! La katana! L'ultima spada! Vado a provare! Vai! Oh sì! Che vado a provarla! Ok! Vado a vedere! Trucco! Ma qua non c'è solamente la spada! C'è pure un'armatura! Cosa? Ma non è giusta! Oh mio Dio! Guardami! Attenti! Fai così! Allora riprendono! Una spada! Una spada! Una spada! Assurda! Ma sono diventato un cavolo di ninja! Un samurai! Ma com'è possibile dai! Ma o ta ta! O ta ta ta! Ta 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 ta! Ma ta 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 ta! Cosa? Voglio vedere come funziona! Oh! Mi ha analizzato! Fermo! Oddio! Oddio! No! Mi si muove da solo! Ma che cavolo? Sei pronto? Vai! Ma che cavolo stai facendo? Oddio! Oh! Che figo! Ma non ti faccio danno! No! Oh! Mi ha analizzato! Ma io non capisco più niente con quelle cavolo di spade! Ma ti faccio danno io almeno questa spada! Ma pochissimo! Come pochissimo? Ma fa 18 di danno! Stupida! Armatura! Non riesco! Ma non ti faccio danno io invece! Questa spada non fa danno! Mi devi in cuore ogni volta! Aspetta, allora provo a cambiare arma Ok, forse questa qua funziona Oh, fermo! Oh, che è successo? Oh, perché? Dove sto andando? Non lo so, non mi muovi questo gioco bene Codardo! Maledizione! Oh mio Dio, ma sono... Non so perché mi giri tipo in un posto strano Guardi quest'armatura, visto che ci sei così di sfondo Nooo! Stai un codardo! Dove l'armatura? No, aspetta, l'ho messa dietro Aspetta, no, dov'è? Ecco Ok Ma perché non va? Non va, non mi va, non mi va Ah sì, ora sì che va, ora sì che va No, 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 no Ma se ne le lavano prendi danno Ma perché non le lavano ti to danno? Ho messo un cuore Ho messo un cuore Ho ucciso prima io Senti, dai giusto L'heimatica l'armatura se sei uno scassone è inutile ma come ti faccio davvero poco con questa spada ce la fai non so perché non me la esce vediamo una cosa bello se vi è piaciuto questo video andate a cliccare questi altri tre ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi le nostre avventure di come le grucco iscriviti iscrivetevi ci si becca bello 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 bello